Qual è la vera storia della matriciana, in romanesco matriciana? La conoscete? Beh, la matriciana è un condimento per la pasta asciutta tipico delle osterie e trattorie romane. Gli ingredienti sono guanciale, pecorino e pomodoro. Prende il nome da Amatrice, una cittadina in provincia di Rieti. La prima testimonianza scritta di questo piatto ci arriva dal cuoco Francesco Leonardi, che nel 1816 lo servì alla corte del Papa. Questo sugo è figlio della gricia, piatto di spaghetti o maccheroni conditi con olio pepe e barbozzo o guanciale, nato in un paese reatino di nome Grisciano. Cosa certa è che l'aggiunta della salsa di pomodoro risale alla fine del XVII secolo. La prima testimonianza scritta dell'uso del sugo alla matriciana per condire la pasta la si trova nel manuale di cucina del cuoco romano Francesco Leonardi, che la servì alla corte del Papa. La matriciana esiste in diverse varianti, dipendenti anche dalla disponibilità di ingredienti. Tutto dipende dalla qualità del grasso del guanciale e dai suoi aromi, dalla salatura del pecorino e dai pomodori utilizzati. Le varianti della matriciana sono molteplici ed esiste anche sotto forma di pizze, risotti e supplì. Tutti concordano sull'uso del guanciale, mentre differiscono le opinioni sul pomodoro, che può essere fresco, in scatola o concentrato. La cipolla non è usata da matrice, ma è presente nelle ricette dei Leonardi e in tutti i manuali di cucina classici romani. Sebbene nelle ricette più vecchie non venga indicato alcun grasso di cottura, alcuni sono usi ad aggiungere l'olio di oliva. Tra le opzioni aromatiche figura anche l'aglio soffritto, mentre come formaggio può essere usato sia il pecorino romano, sia quello di amatrice proveniente dai monti sibillini e meno salato. L'uso di pepe o peperoncino è attestato, anche se a rigor di logica, si deve considerare che se si usa la cotica del barbozzo non andrebbe aggiunto. È consuetudine condire con la matriciana bucatini, spaghetti, vermicelli o rigatoni. La matriciana è presente anche nella cucina giudaico-romana, anche se con una variante. Non si mette il pecorino, si aggiunge olio di oliva, e al posto del guanciale si usa la carne secca di manzo. La base della matriciana è il grasso, il bianco rosato del guanciale. Si aggiunge un sapore forte e pungente da dare al condimento, come cipolla o aglio. E poi pepe e peperoncino, se non sono presenti spezie sul guanciale, va aggiunto. Serve poi una parte dolce e un acidolo, ossia il pomodoro. Nella matriciana c'è davvero tutto, dal grasso al piccante, dal dolce e acidolo del pomodoro, al sapido del pecorino. Come elegante si usa il buon pecorino, che apporta anche il sapido. L'acidolo poi può essere sfumato da un goccio di vino bianco, mentre il pomodoro fresco accetta anche una punta di zucchero. Buon appetito!